Buongiorno, sono qui per darvi qualche annuncio. Il primo riguarda l'iscrizione al Corso Vita. Siccome alcune persone non sono riuscite a concludere la propria iscrizione dovuta alla carta di credito, pagamento, quel che è, ho deciso di prolungare il tempo di iscrizione fino a stasera, fino alle 23.59 orario di Brasile, avete la possibilità, l'ultima possibilità di iscrivervi al Corso Vita completo e questa stessa settimana, fra qualche giorno, chi è iscritto riceverà una mail con la nostra prima sfida perché voglio già iniziare, voglio già vedere i vostri risultati, quindi state attenti, chi si è iscritto aprite l'email per favore. L'altro annuncio, fatemi vedere, ah ok, una grande novità, per la prima volta potete dimezzare l'investimento che farete iscrivendovi al Corso Vita, ma come? Fate un'iscrizione e potete invitare o coinvolgere un vostro amico. Perché ho deciso di aprire questa possibilità? Perché sono pienamente convinta che chi va in compagnia va più lontano e ha più risultati, quindi avere questa possibilità tra l'altro di dimezzare le spese può essere una cosa interessante per tutti. Questa è una condizione mai fatta prima e adesso avete questa possibilità di invitare quell'amico, quell'amica, un figlio, una figlia, il marito, la moglie e ognuno avrà il proprio accesso al corso, alle lezioni. Ok, volevo dirvi tante altre cose, però mi fermo in questo momento, piano piano vi racconto le novità, ma sono sempre e solo cose buone. E vi auguro un buon inizio di settimana, una vita meravigliosa, tante belle cose, tante, sempre, sempre, sempre. Un bacio, ciao!